Piero Abitetti, candidato sindaco di Taranto, siamo qui presso la parrocchia di Sant'Egidio. La premiazione di questa iniziativa, di questo concorso che ha visto protagonisti più piccoli. Le tradizioni tarantine legate indissolubilmente al fraticello povero a Sant'Egidio? Sì, innanzitutto è importante dire che questa chiesa è di riferimento per l'intero quartiere, quindi viene fatto un buon lavoro e in particolare sono colpito da questa iniziativa perché parliamo appunto di bambini, parliamo di bambini in generale, parliamo di bambini immigrati, parliamo di bambini senza voce. Ora per noi bambini rappresentano il futuro, le future generazioni vogliamo garantire a questa città un governo stabile, un governo che guardi appunto alle generazioni future e che consenta a questi bimbi, una volta diventati più grandi, di amare la città, di sentirla propria ma soprattutto di rimanere a viverci. Quindi noi abbiniamo ai bimbi con il passaggio dal futuro una città che deve rimanere la loro città.